Una bella partita, buona la prima, abbiamo fatto una bellissima partita, ho visto tutto un altro Catanzaro di quello che avevamo visto in precedenza. All'inizio 3-2 per il Catanzaro, ma meritate perché ai punti avremmo potuto pure fare qualche gol in più. Comunque va bene così, siamo contenti, siamo soddisfatti, anche se ancora manca qualche pezzo importante che deve arrivare e se c'erano 2-3 ragazzi che oggi non hanno potuto giocare perché non avevano la preparazione atletica. Comunque spero che quest'anno sarà una stagione dove tutti noi ci possiamo divertire. Penso che già siamo partiti bene, ma a Catanzaro sanno tutti l'impegno che sto mettendo in queste imprese, per cui penso che non mi lasceremo da solo, che domani vedrò, mi aspetto una bella risposta per la chiuserie. Ma questa è la forza del Catanzaro e è quello che mi dà sempre più forza a me per continuare e per andare avanti. Sì, è stata comunque una buona gara al di là del risultato che oggi sinceramente mi interessa poco. La squadra però ha tenuto bene il campo e quindi sono soddisfatto sotto quel punto di vista. Doi!